le marche da lunedì saranno in zona bianca abolito il coprifuoco il prefetto di pesaro ricciardi annuncia più controlli nelle aree della movida boom di richieste di risarcimento al codacons degli under 60 dopo il caos vaccini astrazeneca martedì ci sarà un incontro online per spiegare i dettagli dell'azione la diocesi di fano annuncia nuovi cambiamenti a partire da settembre in alcune grandi parrocchie cittadine la cattedrale sarà affidata da giorgio giovanelli nuovi amministratori parrocchiali in arrivo anche a calcinelli santorso e san lazaro la città di pesaro è pronta a rinascere ma teori ci parla dal palco di piazza del popolo per raccontare i suoi sette anni da sindaco prende il via questa sera affano passaggi festival sarà un'edizione ricca di grandi autori e con oltre cento eventi occhio alla notizia in studio marco ferri un cordiale saluto benvenuti a tutti i cari telespettatori di fan tv a questa nuova edizione della telegiornale occhio alla notizia sul canale 17 come avete sentito dunque le marche da lunedì entreranno in zona bianca allora vediamo nel servizio di apertura quali sono le nuove regole da osservare simona zonghetti fra tre giorni quasi tutta italia sarà in zona bianca il consueto monitoraggio del venerdì ha portato alla firma della nuova ordinanza che prevede il passaggio nella fascia con meno restrizioni anche per le marche resta l'obbligo del distanziamento così come quello di indossare la mascherina ma se all'aperto potrebbe essere eliminato già dalla metà di luglio in zona bianca viene abolito il coprifuoco anche se dal 21 giugno verrà tolto pure in fascia gialla inoltre non ci sono limitazioni agli spostamenti e riaprono tutte le attività la cui apertura non era ancora prevista tra queste le discoteche che potranno ripartire soltanto per i servizi di bar e ristorazione infatti non si può ancora ballare in pista ma ci sono delle valutazioni in corso da parte del governo nei ristoranti invece nessun limite per le persone che si potranno sedere al tavolo all'aperto mentre al chiuso il numero massimo è di sei commensali invece alle feste private e alle cerimonie come matrimoni si potrà accedere con la certificazione verde il cosiddetto green pass utile dal primo luglio anche per andare nell'unione europea e nei paesi aderenti funzionerà con un codice qr sul telefonino e potrà essere stampato su carta il documento attesta la vaccinazione un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti o la guarigione da coronavirus quando sarà disponibile si riceverà un sms oppure una mail a quel punto sarà possibile scaricarlo attraverso il sito dedicato il fascicolo sanitario elettronico mediante l'app immuni e presto sull'app io chi al contrario non è pratico con la tecnologia potrà rivolgersi al medico di base al pediatra o al farmacista il sistema sarà pienamente operativo dal prossimo 28 giugno e visto il passaggio delle marche in zona bianca il prefetto di pesaro e urbino tommaso ricciardi ha disposto da lunedì un aumento dei controlli in particolare nelle aree esposte al rischio di sovraffollamento frequentate da giovani nelle fasce orarie della movida e nelle giornate festive ieri sono state controllate 31 attività commerciali e 160 persone con la contestazione di due illeciti intanto nelle marche in queste ultime 24 ore è deceduta una persona la vittima è un uomo di 79 anni della provincia di macerata invece i nuovi positivi sono 28 con zero casi nella provincia di fermo mentre negli ospedali della regione ci sono quattro ricoveri in meno rispetto rispetto a ieri il numero dei pazienti in terapia intensiva rimane invariato con otto persone in totale mentre quello dei degenti in semi intensiva scende a 12 cambiamenti in vista nelle parrocchie della diocesi di fano ecco i nomi dei parroci che verranno trasferiti a partire da settembre filippo pucci risalgono a settembre dello scorso anno gli ultimi cambiamenti dei parroci nella diocesi di fano fossombrone cagli pergola dovuti ai raggiungimenti d'età alla situazione covid e alla perdita delle principali figure pastorali oggi tramite un comunicato il vescovo in comunione con gli organismi di partecipazione e discernimento hanno elencato i nuovi spostamenti e insediamenti dei preti che prenderanno inizio il ruolo ruolo a partire dal prossimo mese di settembre tra i parroci spicca il nome di don giorgio giovanelli che dalla comunità di sant'orso si sposta a quella di santa maria assunta in cattedrale a fano anche il suo collega don matteo pucci sempre della parrocchia santa maria goretti lascerà sant'orso per trasferirsi a calcinelli di colli al metauro nella chiesa santa croce a prendere le redini della parrocchia sant'orsese sarà dunque don giuseppe marini a fare ingresso a san lazaro nella parrocchia gran madre di dio sarà don francesco londei don gabriele micci invece inizierà il suo ministero di parroco nelle parrocchie dei santi pietro e paolo marco e severo a monte felcino e di san giuseppe lavoratore di sterpeti infine don cesario mattias offrirà la sua collaborazione nelle parrocchie del cuore immacolato di maria frontone e dei santi biaggio e abbondio a serra santa abbondio condividendo il suo ministero con don filippo fratelloni nella zona pastorale di pergola a lasciare l'incarico per raggiunti limiti di età don luciano torcellini che si renderà comunque disponibile a collaborare con la comunità pastorale del centro storico di fano e boom di adesioni nelle marche all'azione risarcitoria lanciata dal codacons contro stato regione asl per il caos sul vaccino astrazeneca agli under 60 l'associazione aveva lanciato nei giorni scorsi un'azione collettiva per far ottenere a coloro che hanno ricevuto la prima dose di astrazeneca il risarcimento dei danni subiti anche solo per i rischi corsi sul fronte della salute dopo la decisione delle autorità sanitarie di vietare il vaccino ai cittadini sotto i 60 anni dopo le tante manifestazioni di interesse il codacons ha organizzato un incontro pubblico sull'argomento che si terrà online martedì 22 giugno alle ore 11 dall'emergenza covid ai progetti di riqualificazione urbana fino alla cultura e alla mobilità sostenibile sul palco di piazza del popolo a pesaro ieri il sindaco matteo ricci ha fatto il bilancio dei suoi sette anni di mandato c'era per noi angelica panzieri so bene che molte delle cose delle quali discutiamo anche stasera purtroppo non le vedrò da sindaco ma io voglio fare il massimo voglio lasciare un'eredità importante questa città poi magari le inaugureranno altri non fa niente ma voglio interpretare al massimo questo momento questo momento nel quale noi possiamo creare una rinascita sette anni da sindaco è un numero al quale sono affezionato ci fa capire che manca davvero poco solo tre anni alla fine del mandato era un sindaco entusiasta quello di giovedì sera sul palco di piazza del popolo matteo ricci non si è fatto trovare impreparato per l'appuntamento pesaro pronta a rinascere in cui il primo cittadino ha fatto il bilancio di fronte alla cittadinanza dei suoi sette anni di mandato ce ne vorrebbero molti di più per realizzare tutte le opere ha detto ricci sul palco quasi emozionato nell'ammettere il suo desiderio di voler lasciare un'eredità importante a questa città cultura sport mobilità sostenibile e tante opere pubbliche che da 2016 l'amministrazione comunale è riuscita a realizzare grazie allo sblocco del patto di stabilità ha ricordato il sindaco passando il rassegno ai vari progetti anche quelli di opere ancora in corso come il nuovo palace di viale dei partigiani che dovrebbe essere inaugurato il 22 agosto per l'ultimo concerto del roff il sindaco ha parlato di una città pronta a rinascere dopo 15 difficilissimi e lunghi mesi di pandemia mesi di resistenza detto ricci rispetto ai quali il comune ha cercato di reinventarsi investendo più di 5 milioni di euro nell'emergenza covid è stato fatto tanto e i pesaresi ce l'hanno riconosciuto due anni fa dandoci ancora fiducia con un largo consenso però adesso dopo questo anno drammatico siamo in una fase straordinaria nella quale davvero possiamo far volare ulteriormente pesaro ci sono tante risorse tante risorse che arrivano dall'europa tante risorse che arriveranno dal governo nazionale noi ci stiamo attrestando per coglierle e tante già ne abbiamo stazione che sono state definite per la nuova stazione e bandi che abbiamo già preparato dal san benedetto ad altri contenitori culturali del centro delle frazioni delle colline e quindi siamo davvero in una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di progettare di darci da fare per portare più opportunità possibili a pesaro c'è la preoccupazione della velocità perché la mia preoccupazione è quella di non riuscire a far mettere a terra le tante risorse che abbiamo già portato che potrebbero arrivare troppa burocrazia abbiamo bisogno di semplificare velocizzare perché altrimenti il paese rischia di perdere una grande opportunità capitolo ciclabili annunciato delle novità questa sera si continuiamo abbiamo già finanziato molti ciclabili anche quest'anno la ciclabile che arriverà a vismara la regione ha finanziato la ciclabile sul foglia che arriverà a monte labate abbiamo finanziato quella su via fratti quella che andrà a vila fastigi verso il lago pensierini dalla nel lungo foglia e poi tante altre che finanzieremo nei prossimi anni e poi lo sguardo rivolto al futuro che cosa farà il sindaco alla fine del suo mandato adesso intanto mi vedo pancia a terra su pesaro perché come dicevo poco fa il mio dovere in questo momento storico dare più opportunità possibili di rinascita pesaro la nostra bella bella provincia poi vedremo se i pesaresi apprezzeranno questo sicuramente sarà aiuto in più una spinta in più per magari vedere se le esperienze da amministratore locale può diventare un contributo maggiore anche per il mio paese però lo vedremo io la politica nazionale la sto già facendo da anni come sindaco quindi penso che continuerò a impegnarmi in questa direzione un vero e proprio arsenale da guerra risalente la seconda guerra mondiale il secondo conflitto è stato scoperto mercoledì scorso sotto il pavimento di un garage durante i lavori di ristrutturazione di una casa nel centro storico di cingoli in provincia di macerata si tratta di otto bombe a mano che sono state fatte esplodere in un campo isolato diverse armi tra cui quattro mitragliatrici e munizioni chiuse in una cassa metallica la zona è stata bonificata e tutto il materiale è stato sequestrato risveglio tempestoso questa mattina a senigallia colpita da temporali e forte vento spettacolari invece le fotografie scattate anche ad osimo castelfidardo e porto recanati che hanno immortalato questa nube maestosa secondo le previsioni di geometrio.it da domani una fiammata africana invece porterà un'ondata di caldo fino ai primi giorni della prima della prossima settimana in particolare tra domenica e martedì avremo tre giornate in cui le temperature minime notturne difficilmente scenderanno sotto i 23 24 gradi mentre le massime supereranno abbondantemente 35 gradi con punte fino a 38 39 gradi sui settori pianeggianti e di fondo valle restituiamo fa un pezzo di storia con queste parole è stata annunciata oggi la riapertura del cinema masetti inaugurato in 4 giugno 1916 e chiuso dal 31 maggio 2013 dopo i lavori di restyling previsti all'interno dell'edificio di via don bosco già dal prossimo autunno il cinema tornerà ad accogliere sette giorni su sette studenti fanesi e turisti la gestione è stata affidata alla fondazione gabbiano di senigallia già proprietaria di altre strutture emozionato e soddisfatto don antonio ascenzo direttore dallo scorso settembre del centro don orione è stato bellissimo proprio il clima di intesa e di collaborazione di convergenza sugli obiettivi e quindi siamo riusciti a portare l'indice dei pochi mesi a termine questa operazione dunque una nuova vita per il cinema nel quale grazie a un investimento di 100.000 euro verranno sostituite le poltrone e si punterà su un ammodernamento tecnologico per un'acustica migliore alcuni lavori sono già partiti a metà luglio verranno svelati tutti i dettagli del progetto che ha anche una forte valenza sociale come sottolineato dal presidente della fondazione don gesualdo purziani sì molto molto il cinema è una socialità perché si arriva presto si parla insieme poi si vede il film poi spesso noi porteremo anche i registi porteremo anche persone importanti su quel tema i nostri film molte volte sono scelte specialmente nei giorni feriali saranno film a tema per cui chiameremo anche a livello nazionale a livello regionale quindi sarà molto bello crescita di mentalità che ce n'è tanto di bisogno Ad illustrare il progetto e le collaborazioni è stato il braccio operativo Carmine Imparato il programmista ha annunciato la costituzione di un gruppo di giovani tutti fanesi già al lavoro sull'attività cinematografica Il lavoro deve essere sinergico con l'intera struttura perché il cinema non deve andare avanti da solo nessuno lo vede come un unico cavallo che corre in una pratteria deserta ma deve essere in collaborazione insieme a quella che è la casa per ferie il centro sportivo l'oratorio insomma cercheremo di fare quanto più rumore possibile mettendoli tutti tutti insieme per offrire alla città ovviamente una un'offerta molto più che variegata È una bella giornata commentato invece il sindaco Seri che ha ricordato le tante esperienze vissute al Masetti, il primo cinema fano e luogo di tanti eventi di qualità come il Pinocchietto d'Oro un concorso canoro degli anni 60 dedicato ai bambini Il cinema Masetti è stato sotto certi aspetti un punto di riferimento è un'emozione sapere che ritornerà a disposizione della città e dall'altra come sindaco penso sia una gran bella notizia anche considerato il periodo che stiamo vivendo È preso il via questa mattina la nona edizione di Passaggi Festival e allora andiamo subito in Piazza 20 Settembre dove c'è collegato con noi in diretta Davide Cecchini con vedo l'organizzatore del festival Buonasera Davide Grazie per la linea Marco, sì ci troviamo qua a Piazza 20 Settembre è tutto prontissimo, abbiamo preso Giovanni Belfiore direttamente perché ci sono gli ultimi ritocchi prima di questa inaugurazione ufficiale prima di questo taglio del nastro ecco, a dire la verità già è partito da questa mattina perché quest'anno vi siete ancora di più rivolti a un pubblico sempre più eterogeneo sempre diverso, puntando anche su una colazione e anche sul mare Giovanni Sì certo, gli incontri sono partiti stamattina alle 9 e mezza al Bon Bon Arcadellido e a Bagni Torrette quindi abbiamo subito iniziato già di prima mattina offrendo tra l'altro veramente perché i locali hanno poi offerto il caffè a chi partecipava agli incontri e poi sono proseguiti in questo momento alla chiesa di San Francesco sono in corso degli eventi e fra poco c'è l'inaugurazione in piazza prima l'inaugurazione formale con le autorità del comune di Fano, della regione Mar che parteciperà anche il prefetto e poi alle 21, 21 circa insomma inizierà la prima presentazione libraria con Antonio Di Bella e l'Assedi un libro che parla degli Stati Uniti d'America a seguire e poi ci sarà la consegna del premio Andrea Barbato a Yasemin Kongar che prenderà il premio a nome di Akhmet Altan che è in Turchia non può spostarsi alla Turchia, non può intervenire Yasemin Kongar sarà intervistata da Marino Sinibaldi credo che sarà una cosa molto bella e molto significativa anche per quello che riguarda tutte le battaglie per i diritti civili Ecco, non solo piazza ma anche al Pincio questa rassegna dedicata un po' alla musica, ai social che strizza un po' l'occhio magari alle giovani generazioni si parte con Levante questa sera ma poi ci saranno tanti nomi Partiamo in ritardo perché Levante ha avuto problemi di traffico quindi siamo in ritardo ma fra poco ci sarà Levante e sì, il Pincio è quell'arena lì tra l'altro io purtroppo ne approfitto per darlo qui a Fanno TV una notizia non bella ma purtroppo Andrea Pennacchi abbiamo messo un messaggio, abbiamo appena fatto un comunicato stampa quindi domani l'evento con Andrea Pennacchi al Pincio purtroppo è annullato questo d'altra parte fa parte un po' le cose in diretta sono così, insomma capitano diciamo che quando uno organizza un festival io metto sempre in conto almeno un 10% di cose che purtroppo non vanno bene e soprattutto tutto in massima sicurezza come abbiamo sempre detto sì, abbiamo rispettato e stiamo rispettando tutta la normativa per quello che insomma è possibile con la nostra coscienza fare con i nostri mezzi però insomma si tratta di accedere a eventi letterari in sicurezza e cerchiamo di dare la garanzia di questa sicurezza bene, grazie Davide grazie a Giovanni Belfiori e io ridò la linea a Marco in studio bene, grazie allora, buon lavoro, buon festival noi andiamo avanti con la scaletta del nostro telegiornale invece perché parliamo di, adesso di refezione scolastica l'osservatorio nazionale Food Insider ha classificato il menù del comune di Fano al primo posto in Italia un risultato eccellente ha dichiarato l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin per il quarto anno consecutivo Fano raggiunge il podio confermandosi una delle realtà più avanzate a livello nazionale infatti i menù hanno un buon equilibrio tra salute e sostenibilità promuovendo la cultura del buon cibo locale e biologico riprenderanno venerdì 25 giugno i lavori per le scogliere a Sassonia nel tratto a sud del porto di Fano le operazioni, spiega l'assessore Cristian Fanesi dovevano essere già concluse ma la sospensione non è imputabile all'amministrazione Fanesi fa sapere che alla fine della stagione estiva inizieranno anche i lavori per le scogliere di Metauriglia per un importo complessivo di 4 milioni di euro l'intervento potrebbe durare quasi un anno e rimaniamo in zona Porto a Fano dove è stato presentato il progetto Sali a bordo con noi si tratta di escursioni in barca a vela con ragazzi disabili nel segno dell'inclusione Un'escursione in mare per un'esperienza indimenticabile e volta l'inclusione sociale una frizzante ciurma farà vivere la barca a vela in tutta allegria tra onde, bagni, timone, rande e fiocco uno scambio di emozioni con i ragazzi affetti dalla sindrome di Williams o altre disabilità che prevede anche un aperitivo e momenti di spensieratezza fino al tramonto con amici speciali Si conferma anche quest'anno l'iniziativa denominata Sali a bordo con noi è dedicata a fanesi turisti ad organizzarla è l'associazione genitori sindrome di Williams Ollus che è proprietaria di Sassicaia la barca a vela di quasi 9 metri di lunghezza attraccata alla Marina dei Cesari che è abilitata ad ospitare un massimo di 7 persone Nicola che ormai è di casa poi quest'anno si è aggiunto anche il nostro amico Itri Stefano che si dà una mano nelle uscite in mare poi abbiamo Michela del Curiosi Italia che è una nuova partner dell'associazione che ci aiuta a far divulgare questo progetto insieme alla sua socia Giulia e poi come sempre tutti gli anni siamo supportati anche dal Marina dei Cesari qui c'è la signora Maura Garof che è rappresentante del Marina l'iniziativa Spiega Andrea proseguirà fino al 30 settembre tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20 sempre previa richiesta contattando questi numeri di telefono con questo noi vogliamo far avvicinare la gente e far capire che il mondo della disabilità non è più come un mondo del 1800 oggi la disabilità è tutt'altro i ragazzi sono molto ben strutturati possono entrare benissimo nel mondo lavorativo di oggi nel mondo sociale di oggi Nicola l'anno scorso ha fatto un film Nico e Nico ha partecipato al primo appuntamento sul programma di Real Time per due edizioni lì ha trovato anche la ragazza lavorosa quindi questo sta a dimostrare che questi ragazzi se seguiti, se stimolati, se indirizzati possono fare molte, molte, molte cose noi lo vogliamo dimostrare ancora una volta con questo progetto e per promuoverlo ancora di più quest'anno è stato coinvolto un tour operator che divulgherà l'iniziativa nelle strutture ricettive della provincia pesarese Nicola questo è il terzo anno consecutivo che cosa hai imparato intanto dall'esperienza? dall'esperienza ho imparato a timonare la barca aiutare mio padre con le cime e tutto e dopo aiutare anche a metterla dentro nel posto l'ammergiare e poi dopo restare in equilibrio siete pronti a ripartire? sì, pronti a ripartire sì come è tipo la turma dei pirati oppure come i pirati dei Caraibi è uguale e anche quest'anno con l'inizio della stagione estiva la Guardia Costiera darà avvio all'operazione Mare Sicuro lungo le coste dei comuni di Fano e Mondolfo l'operazione vedrà impegnati sia a terra che in mare i militari dell'ufficio circondariale marittimo con l'obiettivo di garantire sia il rispetto di tutte le attività balneari sia la sicurezza a salvaguardia della vita umana per le segnalazioni di emergenze è necessario contattare il numero blu 1530 torniamo a Pesero dove questa mattina è stato inaugurato un murales al parco Miralfiore nello spazio occupato fino ad ora dalla fontana l'opera è stata realizzata dall'artista Maria Bartolucci che ha raffigurato gli animali simbolo del parco e una madre natura a protezione una figata incredibile invece questo è il commento del sindaco Matteo Ricci dopo aver pedalato sull'acqua in sella la prima bike acquatica approdata in Italia un giro di prova di qualche minuto vicino alla falesia del San Bartolo luogo in cui le bici d'acqua saranno disponibili per tutta l'estate a partire da luglio le previsioni del tempo poi la pubblicità e questa sera c'è un approfondimento interessante con l'assessore al turismo del comune di Fano Etienne Lucarelli con il quale parleremo dell'estate l'estate che ci attende con le manifestazioni e quant'altro l'informazione invece sul canale 17 di Fano TV torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa arrivederci grazie a tutti grazie a tutti